Ciao gente di YouTube dalla tela di Ross. Oggi vi presenterò un altro filmato, un nuovo filmato, ma prima di ogni cosa voglio ringraziarvi tutti per il vostro interesse. Mi ha fatto molto piacere aver ricevuto insomma tante iscrizioni. Per esempio ero a 10 iscritti, sono andata a 150, quindi vi ringrazio tantissimo per il vostro interesse e oggi vi presento un nuovo filmato. Questo filmato io ho partito direttamente con il colore, ovviamente sempre acquarello sul cartoncino. L'ho iniziato direttamente con il colore perché avevo un'idea e l'ho buttata giù ho fatto uno schizzo che pensavo poi in effetti di gettare, non credevo che mi potesse piacere, poi invece mi è piaciuto per cui ormai lo schizzo era già pronto e quindi ho deciso di tenerlo e di cominciare a contrarlo. Spero che vi possa piacere, ovviamente sarete voi poi dopo a decidere se vi piacerà, si parla appunto di persone insomma un po' emarginate della società. Proprio per questo il video sarà seguito anche da alcuni pensieri che io adesso vi leggerò e che seguiranno appunto il tema che ho voluto disegnare. Quando i miei passi si sono smarriti hanno ignorato il mio cuore e la ragione e mi sono perduto. Ho camminato ovunque senza meta, mi sono assopito tra i viavai dei treni o in panchine agli angoli di frenetiche città. La gente mi passava davanti ignorandomi ed io ho capito, ero diventato invisibile. Questi sono alcuni versi che accompagnano appunto il tema in cui mi sono impegnata a disegnare. Spero che vi possa piacere, io vi saluto e spero che possiate ancora seguire il mio canale. Tanti saluti dalla tela di rossa, alla prossima. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!